stai gli giacce simbolista charlie simbolista Sì Ma che c'è E' un'unico? E' un'unico non è nai Ah, c'è stato? Poi andiamo per la padrona Ho trovato la padrona Spassi, spassi, che tu cosa? Sì 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 Su questo fuori da ragazzo. No, no, non cosa. Fai ragazzo. Su fuori da ragazzo. Il diritto. Gorkas Gorkas